C'è venuto scritto rex 27 28 30 25 25 Ma che cazzo? Allora, allora facciamo un punto qua Allora, facciamo un punto a due Sotto e due C'è venne 45 6 minuti e 45 giusto? Eh Qua viene 48 10 minuti e 48 Va su 10 e 48 più 6 e 45 8 e 5 Faccio 12 Faccio 13 Ah giusto Non so E' 4 9 9 9 9 9 9 9 10 7 1 7 8 8 Non è tanto Ma veniamo a fare le canzioni Guarda 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 Questa Guarda 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 Grazie a tutti. 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 Bravo. Grazie a tutti. 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 a tutti. Grazie a tutti. 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 a tutti.